I carabinieri della compagnia di Battipaglia hanno arrestato due cinquantenni italiani e già noti alle forze dell'ordine che stavano perpetrando un furto ai danni di una macelleria di olivano sul Tusciano. I due, una volta scoperti dai militari, hanno provato a fuggire venendo fermati a pochi metri dall'attività commerciale. L'area furtiva, del valore di circa 1000 euro, è stata restituita al legittimo proprietario. I due arrestati sono stati accompagnati presso la caserma dei carabinieri di Battipaglia in attesa del giudizio per direttissima.